Dalle fiamme gialle un ritorno al passato, credo gradito, alla società di origine. Quale sensazione c'è nel gareggiare per la propria società? Quest'anno è stata una stagione molto lunga, quindi a me fa sempre molto piacere gareggiare per la mia società d'origine. Qua sono venuta per divertirmi. Ho fatto il triplo, ho fatto la staffetta e è lungo. Un'occasione particolare? Mi sono divertita, mi è piaciuto molto. Il gruppo è bello, la squadra è sempre bello gareggiare per una squadra.